buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video qui con Call of Duty World War 2 Guerra Operation Supercharge perché è venuto questo video leggermente in ritardo perché come diciamo ho potuto constatare questo gioco che comunque è uno dei migliori Call of Duty dell'ultima degli ultimi anni però è già iniziato giustamente se mi fa vedere pure magari le cose ci avviciniamo alla zona di lancio l'asse controlla la linea del marette dobbiamo danneggiare la rete logistica nemica e occupare i bunker prima prendiamo gli esplosivi lanciati in campo poi demoliamo il ponte e tagliamo i loro rifornimenti fatto questo strappiamo la linea del marette ai crucchi e li buttiamo fuori dall'africa esplosivi in arrivo presso di voi prendete quelle casse recuperate le cariche ok prendiamo le casse come stavo dicendo in questo gioco soprattutto questo dlc ho saputo della sua esistenza esattamente il giorno dell'uscita quindi diciamo che non ci ho fatto non ci ho potuto fare niente aiuto no bastardo è perché io so i tasti quelli inchiappettati insomma quelli al contrario cariche perse come cariche perse lancio aereo in arrivo quando cacchio me lo lanza ok devo stare attenti che qua ci stanno i nemici ci servono i lancieri con calma con calma non c'è fretta non c'è fretta dai uno che mi guarda dall'altra parte però e quindi questa è la madonna e quindi questa operation supercharge diciamo che mi ha toccato questa operation supercharge arriva un po' come arriva con questo gameplay un po' così oh ma si è caduto ops da quando ci sono pure degli scudi ah se li fa tutti questi la madonna la madonna quindi abbiamo ancora due minuti e dobbiamo prendere ancora tre rifornimenti e volete morire voi bastardi con lo scudo soprattutto da quando salta fuori lo scudo aia ho incertato che quello là l'abbiamo perso perso l'altro ancora in mezzo probabilmente ho perso tutto il contatto con il gioco anche con le varie mappe con le varie armi eccetera eccetera perché non c'ho più giocato ma è già caduto buona vai che mi ammazzo da solo aia bastardi ma ce ne mancano due io voglio vedere un po' come questa operazione vabbè che manca ancora un minuto e ste gazzi aia e andiamo a morire come se non ci fossero male ma vediamo un attimino oh ci sta il bar c'è la cosa c'è il cuoco prendiamo il cuoco dove lo lanciano almeno che lo lancino in una posizione alquanto consona per quanto ci riguarda qua sopra oh dove ah ma come ha fatto che aveva preso il cazzo del coso preso buona ma dove ancora un lancio aereo potremo distruggere il ponte da questa parte aia da dove mi stava sparando quello lì dentro dentro figlioli io non so quando cazzo sto andando mori ammazzalo dietro bravissimo bravissimo soldato andiamo alla cattura di queste munizioni munizioni prese sul filo del rasoio avanziamo verso il ponte ma da quando ci sono ma da quando ci sono anche gli scudi non ho mica capito sta cosa capisco che con tutti non lo so si debba anche rimodernizzare eccetera eccetera ma andare a prendere robe che hanno fatto altri videogiochi sinceramente non non lo so non la vedo ah non passo di lì sinceramente non la vedo una scelta azzeccata ecco o una scelta da fare carica piazzata difendete ok c'è un lanciafiamme nemico piazziamo pure un'altra cosa intanto che il signorino l'ha non già visto ma do che c'è pure il lanciafiamme buongiorno a lei intanto te l'ho fatta scoppiare a meno ah no ah si ah quindi bisogna far soltanto scoppiare la porta perfetto qualche altra bomba e la strada sarà bloccata dai carica esplosa avanti così bomba armata è pronta occhio al perimetro lancio le peggio cose ma se andassi dentro qua bam no carica pronta a saltare in difesa hanno disinnescato la bomba daglia 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 vai 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 aia come ha fatto sempre ste figate doppie su di me sempre bomba disarmata ma la chimica stava esplodendo e perché un sta esplodendo possiamo andare sopra vediamo che razza di zero si può fare questa operazione super charge di cui non so praticamente nulla perché come ho detto ho saputo dell'esistenza di sto beh e quindi carica piazzata difendetela poi mi dicono che mi dicono che mamma mia che connessione che c'è non so se c'è stato un aggiornamento o della playstation o anche della della mia rete internet non è che mi ha sfanculato tutto quindi non ci posso fare niente no lanciamo una peggio bomba ci siamo fatti scoppiare ma l'abbiamo fatto per un motivo ancora più eccesso dai che scoppia sia c che d spetta che arrivo ma siamo solo 6 contro 6 mi sembrava che dovessero essere di più comunque no bam questo cosa comunque da quando c'è fuori sto cazzo di scudo io sto vedendo soltanto personaggi con lo scudo devo ancora ben capire se lo scudo si può usare anche con con l'arma se non hanno copiato proprio come se non ci fosse un domani anche tipo con i cosi di di rainbow 6 ma do la doppie non ti tiro un coso eh continuate ad avanzare occupiamo la alziamo la bandiera mamma mia l'alza bandiera come se non ci fosse un domani avanziamo vabbè bisogna capire soltanto un docazzo bisogna avanzar intanto che ci sono gli butto giù qua anche se c'è quello là sopra e mi sposto perché perché se no sciopo in aria quello là c'è la lanza fiamme quindi non ci si può fare niente qua sotto comunque si può passare che cosa bisognerebbe fare catturiamo la posizione ah se quello là si alzava interazione ragazzi andiamo conquistiamo dai che manca poco che cazzo desiro è questo va bene così vai piano piano dobbiamo innalzare un'altra cacchio di bandiera su forza allora io ho visto quello scudo là che stava smitragliando quindi magari non si vuole neanche davvero tanto che si possa usare comunque è la madò che si possa comunque usare il coso il il mitragliozzo anche con lo scudo allora madò alziamo 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 la bandiera mancano tre minuti aia fastidio con che tasto si schippa qua è inutile costruire perché tanto dovemmo costruire dopo tagli le rose ah anche stando per terra vado orco can siamo esattamente morti caduti nelle fauci del nemico l'unica cosa bella è che come riesco a vedere anche se non facciamo no bene anche se non facciamo ehm niente non va giù ah anche se non facciamo niente non va giù il coso della bandiera mo dobbiamo interagire fa scoppiare qua e là qua nei meandri e ma qua come cacchio si fa a salire oh fuga arrivederci è stato chi me sta a sparare chi me sta a sparare la bandiera è viva innaziamo la bandiera aspetta che mo mi facevo pure quello siamo arrivati a 37% perché ci sono quelli là che sono degli imbecilli che non mi hanno visto e mi sa tanto anche che se continuavo l'avrei portata a casa allora c'è uno che fa roba con che faceva roba col coso via arrivederci catturiamo la posizione no ricarica 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 dai 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 ah sei con me e ma c'è uno lì dai e spara siamo al 74% dobbiamo pushare come non abbiamo mai pushato nella nostra vita soldati ci manca poco nemici in fuga la linea del marete è nostra e abbiamo vinto l'attacco ottimo lavoro soldati la linea del marete è nostra i tedeschi battono in ritirata uccisioni 16 demolizioni 3 proprio benissimo la prima fase posizioni difensive lancio aereo nemico proteggete la strada ad ogni costo se perdiamo la linea del marete perdiamo l'africa e noi oggi un la perderemo fateci sparare dove cazzo sono quelli la col col paracadute perché io quando ero sceso col paracadute prima mi sembrava di aver subito una fucilata nel senso che uno mi avrebbe preso ecchi lì sbam sbadabam dov'è che cade boh cade lì e quindi noi ci mettiamo tranquillamente qua senza problemi vedersi aia perfetto qua sarebbe un posto bellissimo per i fucili di precisione ma come sapete io e i fucili di precisione non abbiamo un bellissimo rapporto quindi ne faremo senza allora proseguiamo andiamo su questo palazzo abnorme anche se mi sa tanto che è meglio hop e oppala arrivederci dove lo lanciano l'aereo nemico sotto buongiorno arrivederci dove? ah ok qua sopra eh sti cacchio di scudi mi hanno già vangato l'orto eh non vedete questo ah ok lì sopra lì non ce l'avamo ancora arrivati buongiorno a lei che cacchio fa lì dietro a spararmi proseguiamo ed è già passato un minuto dobbiamo difendere ancora tre avamposti più che altro dobbiamo difendere tre casse di munizioni più che altro allora io andrei anche a costruire qua già costruito perfetto ehi che tu vuoi fare? bomba dove sono le scorte? ah ma la sopra fa un culo perché sono finito nelle linee nemiche ok mancano due minuti hanno preso una cassa e qua non va bene allora dove cade la prossima? mi cadi in testa a me qua sopra no qui bomba posso salire? sto cacchio che posso salire allora è quello? ma non l'ha venuto si che l'ha ucciso uno l'ha ucciso uno difendete voilà le bombe a caso è per un pelo eh per un pelo sarebbe arrivato bravo bravo te con lo scudo ma sono intervenuti qua con lo scudo sti cosi vero? come cassa catturata non va bene così la cassa catturata su ah noi l'abbiamo catturata e lei chi cacchio è? aia comunque aveva lo scudo però aveva anche il mitraglione però se non mi sbaglio il mitraglione ce l'aveva quando il scudo ce l'aveva appoggiato dietro quindi lo scudo è soltanto difensivo non so se si possa sparare anche con la pistola se c'è e se oh e sinceramente non ci tengo neanche a a scoprirlo ammortacci 30 dai che magari gli discono a prendere questo ma non discono a prendere quella dopo 29 secondi do cacchio cade l'ultimo vabbè più che altro do cacchio sono io ok cade qua lavoro in corsica dai che comunque manca tempo mancano 15 secondi no non prendetela no sconfitta ripiegata porca miseria che mancavano due secondi mancavano due secondi ce l'avevamo fatta fuga ripiegare come cacchio ha fatto uccidermi l'ha lanciata dall'altra parte del mondo o quella cazzo di granata ok dobbiamo difendere lì e manca io voglio fare il masto costruttore eh marina lei non è un uomo morto quanto son caduto male ok dobbiamo difendere la strada io andrei su D magari un ci va nessuno su D un che sciozze io sto su D per quello che posso fare ovviamente allora mo qua un ci viene più nessuno niente eh ho anche preso la mira difendete il ponte ci serve per rifornirci venghimi 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 sotto sta qua è qua ma già non posso segnalare come come cosa come Rainbow Six e costruisci mastro costruttore col martello più veloce del far west bam ma che cacchio c'è da proteggere niente attiviamo disattiniamo un ciufolo bam questo ok il ponte sta abbastanza al sicuro come bomba armata e che succede perché ah fa queste cose strane disinnescate per cortesia torniamo indietro oh ah va posso piazzare anch'io l'esplosivo e perché dovevi piazzare l'esplosivo perché sono una cacchio di sono una cacchio di traditore ecco perché sono un piazzatore di esplosivi ma io non lo piazzerò io vado su D dai c'è anche un'affinità con D oh bam perfetto io l'ho lanciata e ovviamente non è morto nessuno che cazzo ho fatto hit marker dopo 50 anni difendete il ponte oh addio rifornimenti non ti preoccupare che me lo difendiamo il ponte allora stavamo dicendo costruiamo smantellate la bomba lele dopo facciamo sta bomba qua e pure un'altra ma qua ci sta aperto no la ricarica la ricarica quello lì sta entrando sta andando su DC via quello che è non facciamo come prima che porco demonio negli ultimi secondi io ho lanciato in testa la bomba se non muore così mi sono auto ammazzato perfetto comunque ne ho portato uno no mi sono ammazzato io con la bomba è vero ne ho ucciso io con la mitraglia dai dobbiamo costruire qua no non posso lanciare la bomba perfetto voilà che qua non viene nessuno a fare il nostro lavoro mancano 14 secondi la vera è un po' difficile che ce la facciano meno che non abbiano Captain America Flash o quelle cose lì un po' difficile però e ragazzi più che questo primo video vi sia piaciuto in prossimi giorni ci saranno mortacci tua ci saranno anche gli altri video con le mappe le tre mappe e poi bon l'Africa è nostra l'abbiamo conquistata con due decisioni una difesa e noi ci vediamo alla prossima